Ha preso il via sabato scorso a Loreto a Prutino la prima tappa della mostra tutta dedicata all'olio d'oliva dal titolo L'Olio Loro d'Abruzzo. La mostra, un'installazione fotografica a cura del fotografo Marco Lussoso, potrà essere visitata presso l'Oleoteca regionale fino al 31 agosto, dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 19.30 con ingresso gratuito, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi del Corso Turismo dell'Istituto Tecnico Superiore Marconi di Penne. L'Oleoteca regionale inaugurata nel 2006 costituisce un mirabile esempio di incontro tra storie e attualità in un sito già di per sé significativo come quello di un frantoio tradizionale chiuso nel 1995. Questo deve essere un punto di partenza per riattivare tutta la struttura, ma soprattutto dobbiamo cercare nuove collaborazioni tra le associazioni, gli enti e anche i produttori di settore che hanno voglia di valorizzare il nostro patrimonio. Facciamo questa mostra fotografica di fotografie tratte dal libro olio, sono circa 40 pannelli, ho cercato di dare importanza e rilevanza al territorio abruzzese, partendo dal soggetto che deve essere la pianta giustamente dell'ulivo, però ho cercato anche di valorizzare il territorio di questi paesi, soprattutto molto loreto perché in questo libro, in questa mostra c'è molto loreto. Sono tanti pannelli, quindi ho fatto stampare molti più pannelli in modo da cambiare un pochino le fotografie per le mosse per differenziarle. Oltre a questa importante riapertura nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione della Fondazione dei Musei Civici di Loretta Brutino, il Comune stesso e il Comitato per il Centro Storico Lauretum, è stato riaperto, dopo interventi di messa in sicurezza, il Museo dell'Oglio presso il Palazzo Morotti che ospita la storia dell'olivicoltura loretese. Siamo riusciti a far riaprire finalmente le porte al Museo dell'Oglio, un luogo penso importantissimo per il nostro paese visto che lì dentro c'è la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Vogliamo ritornare a dare di nuovo spazio all'olio d'oliva che è il nostro prodotto di eccellenza per cui siamo famosi in tutto il mondo. Sia nel Museo dell'Oglio che nell'Eleoteca regionale durante la stagione invernale proporremo altri eventi per far conoscere la cittadinanza e far scoprire le nostre radici culturali.